ciao cuoricini belli come state? questo è un video in collaborazione con Serena del canale serenity asmr vi lascio giù nell'info box il link per andare più velocemente al suo canale per vedere questo video mi raccomando voi sedetevi in un posto sereno tranquillo mettete gli auricolari e rilassatevi chiudete gli occhi e sentite solo questi suoni 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 rilassati Iniziamo con i suoni. Allora, iniziamo con il tab della carta. Io ho scelto questo libro risposte dell'oracolo. Ne approfitto per ricordarvi anche se avete altre domandine da farmi, da chiedere l'oracolo. Poi in un video vediamo le risposte che vado a darci. Ok? Le scrivete qui e poi io le raccolgo e creiamo un video di risposte. Cerco di parlare poco e vi lascio soltanto i suoni. C'è il mio gattino che mi guarda perché quando faccio così con le mani di solito lui gioca. Allora è sul divano che non so se saltarmi addosso o cosa. ringrazio comunque Serena per la collaborazione. Grazie Serena. l'occhio spazzca vediamo. un altro oggetto di carta, ho scelto questa scatola di cioccolatini che mi è stata regalata da mia nipote che è andata in città a Milano in via Montenapoleone Milano, confetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi abbiamo scelto del tapping sul vetro. Io intanto come primo oggetto prendo questo bicchiere. Sentite come cambia il suono? Se lo appoggio? O se lo tengo in mano? A me piace meglio così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel frattempo si è acceso un frigorifero. Spero non vi dia fastidio. Poi come secondo oggetto di vetro ho scelto questo profondo. Grazie a tutti. 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 Buonanotte. 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 Buonanotte.